Lo scenario per l'elezione del presidente della regione siciliana è ancora totalmente aperto e quanto emerge da un sondaggio realizzato da Cakes-Knowledge tra il 9 e il 14 marzo, i cui risultati sono stati pubblicati dai quotidiani siciliani. Il centro-sinistra classico raggiunge il 19,3% delle preferenze, ma va aggiunto il 22,9% del Movimento 5 Stelle per una alleanza che è praticamente nei fatti. Il centro-destra esprime un consenso aggregato che supera il 45%. Allo scenario si aggiunge il partito dell'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, già in corsa per la presidenza della regione, che raccoglie il 6,6%. Secondo il sondaggio sui candidati certi o eventuali a governatore della Sicilia, il presidente uscente Nello Musumeci si attesta al 29,3%, seguito da Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle al 22%, Cateno De Luca si attesta al 14,8%, poi Claudio Fava al 12,7%, Caterina Chinnici 7,6%, il presidente dell'Ars Gianfranco Micicchè 5%, Dino Gerrusso 4%, Nino Minardo 2,7%, infine Pietro Bartolo 2%. S infrastructure 5,7%, 8,8%. 7,7%, 7,7% 8,899%. 8,9% 9,7% 9,5%